Buonasera a tutte, cominciamo con la sedaka, che le parole ti vengono dal cuore entro nel cuore e che possiamo imparare da questi tutti insieme per migliorare la nostra quotidianità e nel mio caso specifico migliorare la mia comunicazione con gli altri, il mio abatistrae con gli altri e la mia determinazione a fare un passo in più ogni giorno. Il Rebbe dice che è un Hasid, è colui che guardandosi dietro ogni giorno vede che ha fatto un passino avanti. Questo è un fatto veramente di essere connessi col nostro percorso spirituale, quando ci guardiamo un attimino indietro diciamo ah ieri ho fatto un gradino, il giorno prima ho fatto un gradino, il giorno prima ho fatto un altro gradino, un gradino alla volta ma continuare a fare un gradino dopo gradino. E chiaramente abbiamo sempre dei dei movimenti, sono delle piccole discese che portano una salita, dobbiamo trovare il nostro il nostro percorso corretto da da fare ma essere cosciente e avere un programma che ogni giorno possiamo aggiungere qualche cosa nella nostra nel nostro percorso spirituale di Mitzvot, di Avat Israel, di studio della Torah e chiaramente è tutto fatto per noi. Asham ci ha dato la Torah e le Mitzvot perché sono il mezzo migliore, le Mitzvot sono il mezzo migliore, chiaramente lo sui a Torah per capire cosa stiamo facendo, sono il mezzo migliore per il nostro benessere, per l'avvicinarsi alla croce barucho. Nel senso se io chiedo a Asham come posso avvicinarmi a te, come posso stare veramente bene, come posso veramente compiere la mia missione in questo mondo, come posso portare un vero bene ultimativo, non quello che mi penso io, quello che mi gira la mattina, ma un vero bene in questo mondo seguitore di Mitzvot perché Asham ci ha dato veramente un mezzo per avvicinarsi ad Asham e trasformare questo mondo da una materialità dove la presenza divina è in qualche modo nascosta a una presenza divina e bega lui, rivelata. Questo è lo scopo ultimativo e chiaramente questo è lo scopo ultimativo anche della Geolah Metich Vashlema, della Geolah finale dove la presenza divina è rivelata e dove è ovvia a tutti quanti, per questo quando viene Mashiach la difficoltà nel fare le Mitzvot, soprattutto quello che è difficile, oggi noi dobbiamo vivere dobbiamo vivere concentrandoci, dandoci per una vita di Torai di Mitzvot e non ci viene chiesto di di morire, ma di vivere e ogni volta ci sono delle decisioni che non sono semplici e a proposito di questo, ieri è stato l'anniversario della ripartita del padre del Rebbe, quindi il Rebbe Levi Yitzchak Schneerson, diretto nipote dello Tzemach Zedek, del Rebbe Menachem Mender Schneerson, terzo Rebbe di Lubavitch, il quale interessante, mi sono studiata un po' di storia dei Rebbe Im Chabad, era figlio, da una parte era nipote dell'Admur Zaken, il Rebbe Schneor Zalman Iliadi che ha scritto il Tanya, dall'altra parte era figlio di nipote di una famiglia molto molto conosciuta nel mondo ebraico, una famiglia antica si chiama Al-Chul Shachal, presenta anche oggi in Israele e questa famiglia Al-Chul Shachal erano discendenti diretti di Davide Amela da parte paterna, quindi la Dura Zaken era discendente di Davide Amela da parte materna, una parte femminile, come le figlie di Rashi ad esempio, mentre il terzo Rebbe di Lubavitch è discendente di Davide Amela da tutti i due lati. E perché l'Admur Zaken decide di fare questo Shiduk per sua figlia, da cui poi nasce Lotzemach Zedek, figlio unico di questa figlia dell'Admur Zaken che si chiamava Dvoralea che mancherà presto, proprio perché vede l'importanza di questa famiglia di fare queste sceglie talmidim legati a questo Rebbe e decide io voglio fare questo Shiduk. Infatti fa questo Shiduk da cui nasce Rabbi Amel Shnerzon, detto Lotzemach Zedek, il terzo Rebbe di Lubavitch. Suo nipote è Rabbi Levi Yitzchak Shnerzon, papà del Rebbe, che nasce il 18 di Nisan nel 1878. E' una figura importantissima, grandissimo genio, non solo della parte rivelata della Torah in inglese, ma anche la parte della Kabbalah. Era un grande studioso di Kabbalah, purtroppo la maggior parte scriveva tantissimo, purtroppo la maggior parte dei suoi scritti per ora sono persi, non si sa mai che poi saltino fuori da qualche parte qualche archivio ex comunista. Quello che ci rimane è quello che sua moglie, la Rebbe Zenkhana, è riuscita a portare via con sé dall'esilio, dove il Rebbe Levi Yitzchak ha scritto ai margini dei pochi libri che aveva a disposizione i suoi commenti. Da questi libri nascono l'Ikuté Levi Yitzchak, che il Rebbe ha fatto redigere e preparare. Sono dei scritti molto molto complessi, molto ricchi, ma un pochino la storia è che il Rabbi Levi Yitzchak è una grande figura in un periodo in cui nasce il comunismo, c'è la rivoluzione bolshevica e chiaramente innanzitutto la prima guerra mondiale, si dice che l'aiuto che la Rebbe Zenkhana e il Rabbi Levi Yitzchak danno agli sfollati ebrei che arrivano in città, se non sbaglio a Nicolae, da un punto di vista umanitario è incredibile. Cioè il Rebbe dice io ero piccolo, mi ricordo lo sforzo gigantesco di mia madre nell'aiutare gli sfollati, un'operazione diciamo umanitaria gigantesca, mia madre non aveva né giorno né notte, da lì ho imparato la vera essenza della vatistrael. Beh, non stanno a spingare, ma nelle vie proprio raccogliendo aiuti e dando aiuti alle persone, aiutando nel modo più importante, nel modo materiale. Quindi questa è l'infanzia del Rebbe che vede, primo genito di tre fratelli, che vede i genitori impegnati in prima fila nelle difficoltà dei primi anni del ventesimo secolo. Quindi parliamo di pogrom, parliamo della prima guerra mondiale, parliamo della rivoluzione comunista bolshevica, parliamo della guerra tra rossi e bianchi e rossi, per chi si ricorda un po' la storia della rivoluzione, e il regime a questo punto staliniano. Quindi in tutto questo il liberismo viene e le comunità ebraiche vengono schiacciate ferocemente, messe in grandissime difficoltà economiche, ma anche la pratica religiosa viene messa al bando. Quando nel 1927 il Rebbe dell'epoca, il Rebbe Josef Yitzchak, viene esiliato, poi viene liberato e poi quindi mandato fuori dall'impero comunista, quindi va in Polonia, e il Rabbi Levitschak prende le reti in mano, diciamo, della lotta dell'ebrismo nell'impero russo, chiamavano così dell'epoca, continuando apertamente a fare il suo ruolo di rabbino in una città che risulta, che risulta, adesso io non devo imparare a pronunciarlo, Dineprofetrosk, che è dove c'è stata la guerra, cominciata la guerra l'anno scorso, che all'inizio si chiamava Yakatitrinoslav, in odore dell'imperatrice Catarina, che aveva creato questa città portuale estremamente ricca a livello economico. Cercavano un rabbino e Rabbi Levitschak diventa rabbino della città molto giovane e continua con la sua metà di rabbino, quindi educazione, brit milà, matrimoni, di tutto e di più in modo molto molto aperto. Quello che però fa scattare l'imprigionamento e quindi poi l'esilio è una questione della mazza. In qualche modo il Partito Comunista si era impossessato delle fabbriche di mazza e aveva chiesto, slash obbligato il Rabbi Levitschak, Rabbi Levitschak a dare la sua ashgaha su delle mazzot che non avevano veramente ashgaha a cui farina non aveva veramente ashgaha. Soprattutto quando si parla di mazza shmura, quella mazza fatta a mano, il processo di controllo della farina nasce a monte, ancora lì quando ci sono i chicchi di grano sul campo. da lì viene controllato fino a tutto al processo industriale fino a arrivare alla mazza shmura, quelle mazza rotonde e dure, un po' bruciacchiate che costano lira di Dio, perché proprio il processo è molto molto complesso e una grande verifica. Questa mazza shmura è quella che di solito deve essere... Mi vergogna adesso perché entra la moragarelli che io come faccio a continuare a parlare? Morà, come faccio a parlare? Morà? Si sta connettendo. Quindi la mazza shmura è quella che si mangia, soprattutto la prima al sedere di Pesach, che si dice che è una bracha per la emuna e per la briut. Mangiare mozza shmura, quella vera, è una bracha per questo biomotivo. perché Morà non mi... Morà? Mi sente? Vado avanti perché siamo in registrazione. Però mi piacerebbe che... Morà lascia il... Pronto? Mi stai parlando? Sì, mi vergogno. Anche se siamo in registrazione mi vergogno. Lascimi entrare prima, non capisco niente ancora. No, ma sono molto... Da una parte lusingata e dall'altra parte mi vergogno perché la lezione la fa... Sarebbe contenta di ascoltare lei, onestamente. Non c'è niente da ascoltare. C'è molto da ascoltare. Stavo parlando... Rassumendo un pochino la storia di Rabbi Levi Yitzchak, che ieri era l'anniversario della sua dipartita. Un pochino la storia perché poi viene imprigionato. E poi studiare un pochino la parte di Tania di oggi. E chiaramente mi fermi quando sento un errore, un'imprecisione. Sarei molto contenta di essere corretta. E quindi continuando. Viene viene imprigionato per una questione proprio perché si rifiuta, a proposito di sacrificio personale per la vita ebraica, si rifiuta di firmare la kashrut di questa mazzotta. Viene messo estremamente sotto pressione. Ma benché abbia da una parte una grandissima responsabilità nei confronti della sua comunità, di tutti gli ebrei a questo punto della Russia, in qualche modo è responsabile. decide di andare avanti e di non sottomettersi a questo ricatto dell'autorità. Riesce a vincere in questo caso proprio di non... che non viene obbligato a fermare la kashrut di queste mazzotte, ma in compenso viene accusato di alto tradimento del governo e quindi viene da una prima... all'inizio viene imprigionato, se non sbaglio il 9 di Nisan, quindi vigilia di Pesach, e dopodiché quindi imprigionato per praticamente un anno senza sapere né dove fosse, né cosa stava succedendo, né qual era la sua sorte, e poi è mandato in esilio. Sua moglie, la Rebetzin Khan, lo segue di propria volontà e arriva in un posto in Cili, dai tartari, una lingua che non è il russo, senza comunità, senza le necessità basiche per una vita normale, quindi una zona paludosa dove manca il cibo, quindi letteralmente fanno la fame, e che dopo, se non sbaglio quattro anni, in qualche modo privati di tutto il decoro, la comunità e l'opportunità anche di studiare e di insegnare, vengono aiutati da un gruppo di chassidi, ma trasferirsi ad Amalta dove c'era una piccola comunità, e lì viene poi infatti, e lì che è l'Oe, la tomba di Rabbi Levitschak di Shnerson. Questa storia chiaramente ci fa pensare qual è la forza di mettersi da soli contro tutti, anche se necessari, per far forte ai quelli che sono i nostri valori, le nostre esigenze a livello ebraico, e quelle che sono le nostre priorità. È chiaramente un grandissimo sacrificio personale, di cui noi beneficiamo, chiaramente, di tutti questi grandi sacrifici, che grandezza di chi ci hanno sacrificati per il nostro bene, per il nostro ebreismo, e perché oggi possiamo mettere in pratica, quindi ogni cosa che noi facciamo oggi in realtà è il risultato di sacrifici enormi di chi ci è venuto prima. Quando si parla di la nostra generazione, che noi siamo i nanetti sulle spalle dei giganti, è perché anche il nostro piccolo sforzo, rispetto a quello che è stato lo sforzo precedente, ha un immenso risultato, perché prendiamo tutto quello che ci è stato regalato dalla generazione precedente, e con un piccolo investimento possiamo arrivare a dei risultati ancora più alti, proprio perché il lavoro non è enorme, ma ci basiamo su quello che è stato fatto, sui sacrifici enormi e su quello che è stato fatto dagli altri. Abbiamo detto che la nostra generazione è una generazione dove quello che dobbiamo investire, dobbiamo investire sulla vita ebraica. Non ci viene chiesto di morire per l'ebrismo, ci viene chiesto di vivere per l'ebrismo, di influenzare per l'ebrismo che ci sta intorno noi stessi, e ogni piccola azione che facciamo ha un effetto, anche se noi non ne siamo conoscenza. Quello che studiamo stasera, e quindi volevo raccontare quello che mi è successo in questi giorni, dove ogni piccola, mi succedono delle piccole cose, quando faccio, mi rendo conto che quando faccio queste piccole cose, faccio la mia piccola conversazione con Asparuku e penso di aver fatto quello che si aspettava in quel momento, si aprono le porte e vado avanti. Proprio un dialogo aperto in questi ultimi giorni, dove mi rendo conto che ogni cosa che faccio è misurata. E come dicevate voi prima di cominciare, quando si dice per cuff, quando diciamo grazie di quello che ci succede, ci fa anche fare un attimino zoom out, fare un pozzino indietro e dire aspetta un attimo. Perché sono qua? Perché sta succedendo quello che sta succedendo? Che cosa devo eventualmente cambiare? Che cosa veramente posso portare in questa situazione complessa e difficile, magari anche non troppo piacevole? E quando lo capiamo e affrontiamo la cosa direttamente, magicamente si aprono delle porte. Stasera leggiamo, studiamo l'inizio della lettera numero 7 di Greta Kodesh. E come abbiamo detto varie volte siamo arrivati all'ultima parte del taglio, dove sono delle lettere che la Mura Zaken scrive alle varie comunità, magari anche ai chassidim in Israele che avevano fatto la Liyah, che erano i chassidim del suo maestro, del rabbi Menachem Mendel di Orodoker, da cui tra l'altro a proposito dello Zemach Zedek, il terzo rabbi di Lubavitch riceve proprio questo nome di Menachem Mendel da questo rabbi. e la Mura Zaken principalmente in queste lettere tratta del tema della Zedekah. Il beneficio della Zedekah e la grandezza della Zedekah viene chiamata la Mitzvah, come abbiamo detto. Noi abbiamo prima accennato che gli effetti di un nostro gesto sono anche un effetto di Zedekah. Noi possiamo fare Zedekah materiale, possiamo fare Zedekah spirituale. Ogni persona da e riceve quello che può ricevere, quello che in quel momento è necessario. A noi la sensibilità di capire che cosa è da dare. Ma come raccontavo prima in questo discorso del rabbi dice che molto spesso noi facciamo della Zedekah, di cui non siamo neanche coscienti di farlo ed è il livello più alto perché noi diamo a persone che non conosciamo e le persone che ricevono non sanno che siamo noi che abbiamo dato. Quindi anche il fatto di camminare per strada e qualcuno da lontano ci guarda dalla finestra e trae qualche pensiero nella sua vita personale, nella sua vita ebraica, dal nostro camminare per strada perché abbiamo fatto perché come siamo vestiti o come ci comportiamo o qualsiasi cosa, questo ha un effetto enorme e non siamo neanche coscienti di quello che abbiamo portato all'altra persona. E questa lettera comincia con una bellissima preghiera, in realtà quello che diciamo la mattina, all'inizio di Shacharit, diciamo questa parte, di questa questa frase è bellissima, quando si capisce è bellissima. Questo si rivolge a noi personalmente ma soprattutto anche noi come popolo ebraico. ricordiamoci che oggi è bello essere ebrei, c'è posto per la nostra religiosità. Chiaramente in Israele è più facile, fuori da Israele è più difficile, ma immaginiamoci l'America degli anni cinquanta, nel primo dopoguerra, dove non sta a me raccontarlo, la Moragarei può raccontarlo molto bene, dove la frase comune degli ebrei era come è difficile essere ebreo, perché una famiglia dove il padre decideva di non lavorare Shabbat era un grandissimo sacrificio personale, dove si metteva a rischio la Parnassà della famiglia e il buon sostentamento della famiglia. Quindi il messaggio che veniva passato alla generazione successiva era come è difficile essere ebreo, che sacrificio essere ebreo. Quindi al di là dell'esempio del fare le Mitzvot, quello che la generazione successiva assorbiva era forse è meglio non fare l'ebreo perché è troppo difficile, troppo oneroso. Vediamo cosa è successo in Europa e quindi questo porta piano piano, anche veloce veloce, un disinteressamento alla vita ebraica. Nella nostra generazione, tantissimi lo dicono, c'è un fenomeno incredibile di ritorno alla religione, di ritorno a un rapporto con Hashem per amore. Non per paura, ma per amore. Noi sappiamo che ci sono due ali che ci tirano su, un'ala è l'amore, un'altra ala è il timore. Nella nostra generazione ci si riavvicina ad Hashem per amore. In ogni famiglia c'è qualcuno che fa un percorso di teshuva, poi abbiamo studiato che cos'è la teshuva. Ma in ogni famiglia c'è qualcuno che comincia a fare un determinato percorso ed è qualcosa che prima non c'era. Se guardiamo nelle generazioni precedenti questa cosa non c'è, è un fenomeno assolutamente nuovo e incredibile. quindi se 50 anni fa o 60 anni fa era difficile essere ebreo oggi, cerchiamo, tutti cercano un significato della quotidianità nella propria identità. Quindi Fortunato, come siamo fortunati, com'è buona la nostra porzione e com'è piacevole il nostro lotto, il nostro destino. Cioè il fatto di essere parte di Am Israele, com'è piacevole. Come faccio a trovare piacere nel mio destino di essere parte di Am Israele? E scoprire la... Da una parte abbiamo tanti omneri, quindi il famoso Kabalatol, ma dall'altra parte il fatto che abbiamo un cordone umbilicale unico e ricco di energia, chiamalo così, di rapporto con Hashem, che nessun altro ha. Quindi il fatto di riconnetterci con noi stessi, riconnetterci con la particella di Hashem che è dentro di noi e apprezzare questo regalo che Hashem ci ha dato. E quindi quando vediamo l'elettorale Mitzvot, non solo come Kabalatol, quindi un onere che dobbiamo portare avanti perché dobbiamo farlo, ma come un mezzo per eccellenza ultimativo per avvicinarsi ad Hashem, perché qual è il benessere più grande, quello che deve essere vicino ad Hashem, ogni Mitzvot e ogni Surya Torah in realtà ci riconnette con il nostro benessere. E quindi capiamo questa frase quando diciamo nella tefila Come siamo fortunati! Come è buona la mia produzione! Wow! Mi smorre il tuo va! Grazie Hashem! Grazie Hashem! Desso che sono quello che sono, che ho da fare quello che ho da fare, perché se non fosse per quello che sono e quello che ho da fare, non sarei così vicino a te, non sentirei questo amore che provo per te e che Hashem provo per me. Quindi mi sentirei neanche così speciale, mi sento speciale per tutto quello che ho da fare. Chiaramente siamo in missione, ma il fatto di essere in missione, quella consapevolezza di essere in missione ci fa stare bene. E questo valido per Amistrael, come Clalistrael, e per ognuno di noi nel suo piccolo. Quando una persona soffre di stabilità dell'umore, magari anche dei malesseri a livello psichiatrico, una delle cose che più aiutano la persona a uscire dal suo stato di dolore è fargli capire la consapevolezza della sua importanza, far sapere a questa persona quanto è importante, quanto il suo contributo in questo mondo è importante. Anche le Neshamot che vivono in un corpo delle esperienze difficilissime, anzi quelle che arrivano giù, 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 giù nelle esperienze più dure, più difficili, chiamarle più dolorose. E dicono, ma cosa ha fatto questa persona per meritare tanto dolore, un'esperienza così difficile? Davka sono delle Neshamot che si offrono volontarie per un percorso giù in questo mondo così difficile, dove il male e il bene si mescolano in modo così forte, dove vengono esposte a delle situazioni difficilissime per poi prendere tutto questo e trasformarlo per il bene. Quindi arrivare al punto più basso e avere la forza, perché sono Neshamot estremamente elevate, estremamente forti, trasformare tutto questo negativo in positivo. Quindi come si fa ad aiutare una persona a uscire da questo senso di disperazione, perché ha vissuto delle cose difficilissime? E renderlo cosciente del fatto che Davka, lui, proprio lui, che ha vissuto un'esperienza così difficile, che è sceso così in basso, è perché questo scendere così in basso va a portare su qualcosa di estremamente elevato. Questa consapevolezza di poter trasformare il male in bene è una forza enorme di trasformazione. E quindi quando si dice che il balciuvà porta tutto con sé in Kedusha nel bene ed è proprio così, perché tutto il basso che ha grattato giù il fondo del barile lo porta con sé in alto per delle grandissime trasformazioni. Ed è questo il lavoro di trasformare il male in bene, perché il male non c'è, ma si deve trasformare in quelle situazioni più difficili, più assurde possibile, vengono trasformate in bene da lui in modo rivelato. perché noi siamo eredi di Avraham, Mitzchak e Yaakov. Si dice che quando Yaakov riceve il nome di Israele, porta con sé il fatto di avere una scintilla divina stabile nella sua discendenza. solo Yaakov, che poi viene chiamato Israele, merita le dolci tribù. Le dolci tribù, quindi da lì, da questo passaggio nasce il fatto che da di generazione in generazione, da madre in figlio, c'è il passaggio della la presenza da Neshama Elokit, da Neshama Divina, nel corpo di un ebreo. Non importa qual è la situazione, ma diciamo che la struttura fisica del corpo è stata già elevata così tanto che automaticamente Atta riceve una Neshama Elokit. Questo processo è stato cominciato con Avraham, è stato continuato e allargato, migliorato da Yitzchak, ma solo con Yaakov, che diventa Israele, viene fissato per tutti i suoi figli, e quindi per tutta Amistraele. Bisogna capire che cosa vuol dire il termine, la nostra porzione, il nostro loto, il nostro destino. Dobbiamo spiegare l'espressione dei nostri saggi, dei nostri maestri di benedetta memoria per quando si dice Sembrerebbe che sia un linguaggio adatto ad Akarosh Baruch Hu, che è tutto. Chiaramente noi sappiamo che dal Rambam non si definisce Dio, ma Hashem è indefinibile. Quindi già partiamo da questo proprio supposto che qualsiasi cosa diciamo, Hashem non si definisce. Qualsiasi cosa cerchiamo di dire, sono delle terminologie che utilizziamo per aiutarci a renderci l'idea, chiaramente. Anche quando diciamo, Hashem dice, sono termini umani che utilizziamo per aiutarci a comprendere un pochino, avere un pochino l'idea, ma chiaramente il Rambam ci spiega che non si può definire Akarosh Baruch Hu. Quindi dice, quando si dice Non ha una porzione nel Dio di Israele, ma come Hashem c'è una porzione? Ci sono parti? Come si fa a definire? Hashem non può Non si può dividere Hashem, Hashem è tutto. Anche questo mondo Hashem è tutto e la rivelazione divina in questo mondo noi non la possiamo vedere perché siamo noi che non siamo capaci a vedere, ma c'è. Quindi sta a noi cambiare gli occhiali perché sta a noi decidere che voglio vedere e lo put divino. Tutto quello che succede nella nostra quotidianità, ma chiaramente la prospettiva è la nostra, non è quella di Akarosh Baruch Hu. La famosa storia di come facciamo a spiegare questo concetto che è sceme tutto, ma siamo noi che abbiamo una prospettiva limitata. E c'è un tempo nei negozi non c'erano le videocamere. Cosa succedeva? Che il padrone del negozio per avere un'idea di quello che succedeva nel negozio, controllare i commessi, controllare la clientela. Si faceva costruire una mini stanzina in mezzo al negozio, tutta coperta di specchi, rimaneva dentro, da dentro lui vedeva fuori, ma da fuori non potevano vedere dentro perché quando vedevano dentro, quando ci si specchiava si pensava che fosse semplicemente uno specchio, mentre il padrone del negozio aveva piena visibilità di tutto quello che succedeva. Quindi Hashem ha chiaramente non cambia la sua essenza anche in questo mondo materiale, cento per cento la presenza divina di questo mondo materiale e nei mondi spirituali esattamente la stessa, perché Hashem è mutabile e ogni presente è mutabile. Quello che cambia è la mia prospettiva, quello che io posso capire, quello che io posso percepire. Quindi quando si dice non c'è parte nel Dio di Israele, cosa vuol dire? Parte. Si può dividere, si può fare pezzettini, un puzzle. La terminologia non è chiara. A questo si capisce dal verso in cui si riferisce di Yaacov, quando Yaacov lotta con l'angelo e viene chiamato e l'angelo di Hashem lo chiama Israele. Per uscire, perché la verità è identica a se stesso nel suo nome, non c'è cambiamento. Perché Hashem è quello che riempie tutti i mondi, i mondi superiori, i mondi inferiori. Noi siamo nel mondo inferiore, nel mondo superiori, quindi nel mondo inferiore parliamo di questo mondo chiamato il mondo della Sia, Tartona, il mondo più basso, dove siamo limitati in spazio e tempo. Principalmente, no? Noi siamo limitati nello spazio e nel tempo, quindi questo mondo che viene chiamato Tarton, basso, che è principalmente il mondo dell'azione. Quindi si parla di Hashem permi a tutti i mondi, quindi superiori e inferiori. Quindi dal livello più alto, dei livelli spirituali più alti, fino al punto più basso di questo mondo materiale, il punto più basso. Tutto è a Karosh Baruch Hu. Quindi quando diciamo nel nostro lessico, anche di tutti i giorni, nel momento in cui ci ricordiamo che in questo mondo materiale tutto Karosh Baruch Hu, anche la nostra prospettiva, anche il modo in cui ci poniamo cambia. Perché il problema è che non siamo coscienti, questo è fondamentalmente il problema. Se fossimo coscienti, al cento per cento chiaramente non ci sarebbe il libro arbitrio. Quanto più noi studiamo Torah e facciamo mid-stop, più il nostro libro arbitrio rimane il libro arbitrio, ma siamo, chiamiamolo così, sensibilizzati alla presenza di Hashem. Il fatto che noi ripetiamo Baruch Hashem, prestiamo attenzione ai dettagli, fa sì che siamo più coscienti della presenza di Hashem ovunque, in ogni cosa che facciamo, ovunque ci troviamo. Come è scritto, quindi torniamo indietro a quello che avevo studiato nei mesi scorsi. Perché Hashem non riempie, dice Che Hashem stesso, che con sé stesso, è tutto il mondo. Per noi è difficile capirlo, ma non è che Hashem ha creato il mondo, l'ha messo in mezzo all'universo e poi fa qualcos'altro. Ed è tutto Hashem. Quindi anche tutti i meccanismi sono Karosh Baruch Hu. In questo mondo materiale noi conosciamo Karosh Baruch Hu con il nome di Elohim. Quello che è il nostro scopo è di portare la presenza di Hashem al livello di Hawaie, la Yud e la Hei, la Vav e la Hei, che è superiore al nome di Hashem Elohim, che è la forza divina presente in questo mondo materiale. Perché sono io, dice Hashem, sono tutto. Che è la vera essenza, Hashem è tutta l'essenza e non solo la sua gloria. Perché noi abbiamo detto che noi siamo così piccolini che facciamo fatica a immaginare, a capire l'essenza stessa di Karosh Baruch Hu. Noi ci accontentiamo di un raggio, come noi facciamo l'esempio del sole, chiamavamente un esempio, noi cosa facciamo? Noi beneficiamo di un raggio di sole. Mettiamo un uovo sotto un sole di 50 gradi, l'uovo si cuoce, è cotto. Quindi l'esposizione che noi possiamo sopportare di un raggio solare deve essere mitigato, perché sennò diventa troppo forte. Immaginiamo la nostra esposizione al sole stesso, che a Viacola ancora di più, la nostra esposizione alla Karosh Baruch Hu. Noi siamo anche contenti con un solo raggio divino, ma è tutto Karosh Baruch Hu. Il fatto che Hashem ci protegge da questa luce infinita della presenza divina è perché noi non siamo un clino, non siamo un recipiente capace a contenerlo, perché sennò automaticamente la nostra Neshama scapperebbe dal nostro corpo. Ecco, come è successo su Arsinai, con la donna della Torah, dove le Neshama, dalla rivelazione divina così forte, scappano dai corpi. Invece lo scopo è rimanere in questo corpo materiale. Quindi Hashem ci fa un favore, nascondendosi un po' da quella che è la nostra capacità di percezione. Tracciato la parte di neurotino, dove le Neshama ha la gloria di Hashem. Balla di Hashem ha stesso. Fabbè pichenni, ho caddossi, ho m'abbè ridi, ma il aiutoni, ma attaccato e non no ne tappaso qu'lal, in che il tapposo. parliamo di nuovo della percezione della nostra percezione anche della presenza della neshamah divina di una scintilla divina che è dentro di noi dentro ogni ebreo qual è la particolarità che c'è una scintilla divina dentro ogni ebreo tra proprio la parte di e che è contenuto in un corpo materiale quindi la difficoltà è che una scintilla divina di tutto di Hashem è contenuta in un corpo materiale finito chiaramente Hashem è tutto il mondo quindi non è che può essere modificato allo stesso livello quando la nostra neshamah questo è molto chiaro il fatto che la nostra neshamah è una scintilla di Hashem in questo mondo materiale al suo stato chiama così puro tra virgolette la nostra neshamah è l'okita la nostra neshamah divina non è soggetta a mutamenti la nostra neshamah divina è perfetta così com'è lo scopo è cambiare tutto il resto non cambiare elevare tutto il resto trasformare tutto il resto compreso il nostro carattere la nostra vitalità i nostri interessi ma l'essenza dalla scintilla divina che dentro di noi non cambia ed è mutabile perché proprio è la presenza divina dentro di noi immutabile che ha lo scopo di influenzare e di guidare i nostri passi in questo mondo quindi la neshamah e l'okit fa un percorso lunghissimo fino ad arrivare a chiudersi dentro un corpo materiale l'infinito che si chiude dentro l'infinito il miracolo della vita di ogni ebreo per far sì che attraverso la nostra Torah e mitzvot portiamo questo mondo a un livello superiore portiamo e l'okut divinità in questo mondo superiore attraverso delle azioni materiali di tutti i giorni la nostra attività di tutti i giorni come è spiegato in altri posti lungamente chiaramente in queste lettere la Murazaken cosa fa? fa un po' di cherry picking di quello che abbiamo studiato tutto quest'anno da quando abbiamo cominciato il 19 di Kisle fino adesso tutto quello che abbiamo studiato capitolo dopo capitolo prende i concetti che a questo punto dovrebbero esserci chiari e le metti in segno per mandare un messaggio chiaro un messaggio a chi riceve questa lettere quindi proviamo a spiegarlo qui Hashem è l'essenza di tutta la forza di tutta l'energia che c'è questa forza che è presente nel mondo è la forza di Akadosh Baruch Hu che è Hashem stesso e e con questa forza Hashem anima e crea abbiamo detto che Hashem crea il mondo continuamente con la sua parola crea i mondi superiori e i mondi inferiori e metaforicamente la Murazaken proprio utilizza questo albera e ara come una radiazione come un raggio luminoso che che si illumina il suo nome quindi il fatto che Hashem illumina tutto dalla sua essenza ma che la sua essenza rimane se stessa ovunque e ritornando a qualcosa abbiamo studiato precedentemente quando noi abbiamo detto che noi abbiamo tre libushim tre vestiti abiti abbiamo il pensiero la parola e l'azione la particolarità nel nostro caso è che il pensiero rimane dentro di noi fa parte di noi possiamo avere migliaia di pensieri uno dopo l'altro qual è la particolarità della parola che dobbiamo convolgere qualche pensiero in quello che è la parola persone ad esempio che sono un po' balbuzienti o che parlano male in realtà sono delle persone che hanno tantissime idee e che fanno fatica a convogliare una sola a scegliere quello che vogliono dire e farlo convogliare nella parola dopodiché lo step successivo è prendere quello che è la parola e anche far diventare un'azione da mille parole facciamo un'azione lo sappiamo molto bene a livello di malfuta a livello di regno sappiamo che il re governa con la parola i capi di stato governano con la parola quindi la importanza della parola la parola e Hashem ha creato crea il mondo con la parola se per noi la parola diventa qualcosa che è fuori di noi separato da noi Hashem non è così rimane un tutt'uno che il suo nome è tutto l'unicità di Akadosh Barucho questa viene ribadita come è scritto che anche per il suo nome Hashem è grande esaltato è glorificato quindi tutta questa luce divina si veste di materialità per animarla anche una pietra ha una sua vitalità anche i principi minerali hanno la loro vitalità per lo più quindi anche il mondo vegetale il mondo animale quindi tutto il mondo ha una sua vitalità non so se siete mai entrati nella stanza di chi fa terapia con le pietre e sento proprio qualcosa io sono molto sensibile sento l'energia di tutte queste pietre per questo si dice che la pietra di Opal è sconsigliata perché anche le pietre hanno la loro forza hanno la loro energia dalla loro struttura chimica fisica e chimica quindi la radiazione la luce di Hashem si veste in questo mondo di superiori inferiori per animarlo i mondi superiori ma ancora di più i mondi inferiori solo nei mondi inferiori potiamo mettere un semino nella terra e dal semino nasce una piantina solo in questo mondo inferiore c'è la forza procreatrice di Akadosh Baruch Hu è una cosa incredibile e che viene contenuta attraverso delle contrazioni infinite ben detto noi siamo l'esempio più eclatante del Simzum dove l'essenza di Akadosh Baruch Hu non cambia di un pip non cambia di niente ma decida Hashem di farci così grandi così così grandi che la sua essenza a livello a livello più genuino diciamo più rivelato è dentro di noi il punto è di di lasciarla ascoltare di poterla ascoltare ma l'essenza esattamente è senza senza diciamo così tra virgolette senza Simzum si dice che abbiamo cinque livelli di Neshama Neshama di diciamo il mio cognato di Neshima quando noi respiriamo a fondo ci diamo Menukhala Neshama facciamo un bel rispondere profondo diamo tranquillità alla nostra Neshama quindi proprio è tutto legato imparare anche a respirare darci il tempo quando abbiamo la mancanza di respiro quando gli ebrei erano in Egitto non avevano la possibilità quando soffochiamo non abbiamo l'opportunità di respirare quindi lasciare anche le parti della nostra Neshama di prendere lo spazio sappiamo che la Neshama ha cinque livelli Nefesh Ruah Neshama Chaya Echida Chaya Echida non fanno parte di questo mondo materiale fanno parte dei mondi spirituali che in qualche modo non rientrano in quello che è il mondo di spazio e tempo però una codina della Chaya è dentro di noi il Rebbe come dice come facciamo a connetterci con questa codina con questo punticino piccolino piccolino che trova dentro di noi che proprio è il nostro punto d'aggancio sui mondi superiori e quando facciamo Misrut Nefesh quando ci attacchiamo facciamo Misrut Nefesh scopriamo dentro di noi un punto la presenza di Akkadosh Barucho e allora capiamo anche la forza del Rebbe Levi Yitzchak di Benedetta Memoria che ha la forza da solo di contrastare un intero impero comunista di confrontarsi con quel presidente comunista e mettere a repentare la propria vita per una mitzvah la mitzvah di Kashrut delle mazzotte perché noi sappiamo che mangiare la mazzash morà quella vera quella fatta come si deve la sera del seder fuori di Israele due sere di seder è una medicina per emunà e per refuà e chiaramente le due cose sono connesse noi abbiamo quando abbiamo emunà soprattutto quando noi lavoriamo sul nostro bitachon in Hashem non c'è medicina migliore anche per la nostra salute del nostro corpo quindi il sacrificio di una persona quanto grande è il sacrificio di una persona sola che trova dentro di sé la forza di imporsi contro tutto e tutti dipende quali sono diciamo i challenge le prove nel suo caso perché ognuno di noi ha una sua prova ognuno di noi ha un suo contributo e proprio il fatto che noi siamo clalistrell ognuno è un piccolo un piccolo grande pezzettino del puzzle di un grandissimo puzzle il test di essere coscienti che ognuno di noi è un pezzettino e senza il mio lavoro senza il tuo lavoro senza il suo lavoro il puzzle non si può completare quindi io sono rispondabile per me ma sono anche responsabile per chi mi sta vicino perché se chi mi sta vicino capisce la sua importanza quanto è speciale quanto è importante quanto qualsiasi cosa lui faccia nel reame della delle mizvote del studio attora porta apporta il completamento del grande puzzle fa sì che io automaticamente faccio pure avat israel perché non guardo l'altra persona come un ostacolo rispetto a quello è il mio interesse ma guardo l'altra persona come un partner che deve fare la sua parte per far sì che la mia parte la sua parte e la nostra parte diventa completa quindi c'è di poter essere forti nei nostri propositi di individuare bene qual è il nostro percorso per mantenere il corretto il nostro binario che me lo chiamo io la nostra la nostra la nostra via la nostra retta via per ottimizzarla per crescere e chiaramente aumentare quello che è la vat israel siamo ancora di ricevere con gioia e pienezza nel cuore perché sappiamo che stiamo facendo le cose giuste tutti insieme sono veramente a meritare la come facciamo ci riconnettiamo con quella puntina che la nostra è il nostro vero io quando ci riconnettiamo con il nostro vero io tutto tutto sia giusto tutto si riequilibra e se lo facciamo tutti tutti si riequilibra quindi pensiamo di essere capaci di vedere il bene dentro di noi il bene nel nostro prossimo qualsiasi sia la situazione e di poter essere messaggeri di 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 ritrovare se stessi per noi se stessi e per gli altri come sempre auguriamo una pronta guarigione a tutti i malati che possono avere una prontissima guarigione chaiamushka bella bat lishab yael sara bat yaudit miniam bat sarah chaiam shlomo mordechah ben fradel yauda ben rachel ben bino chaiamushka 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 Grazie mille per noi, grazie mille, grazie mille. Amen.